Il tema è Amati Mostri, PopSofia 2023 si presenta con il Minotauro di Pablo Picasso, l'unione di umanità e animalità per eccellenza. Ecco che vogliamo indagare questa attrazione e repulsione nei confronti del mostro. Il mostro chiaramente compare in tante narrazioni contemporanee nella cultura di massa e PopSofia lo farà attraverso conferenze e spettacoli per tre giorni, 7, 8 e 9 luglio nel centro di Pesaro. Parleremo dei mostri che amiamo e che odiamo e che forse sono molto più vicini a noi di quello che pensiamo. Un'altra giorni fantastica che celebra tra altre cose anche i 50 anni della scomparsa di Pablo Picasso e tanti altri elementi di gioco sul contemporaneo, da Dino Risi, elementi che elaborano sul cinema e come sempre tutte produzioni originali e quindi è anche uno sforzo produttivo per cui siamo grati a Lucrezia, a Erme Sercoli e anche a tutte le persone che collaborano a vario titolo a questa manifestazione che ormai è completamente nel cuore di Pesaresi ed ha una radice solida a Pesaro pur essendo un orgoglio marchigiano che tra l'altro ci proietta con forza anche verso la capitale italiana 24, verso un'edizione 2024 che sarà ancora più pop.